Pregare con il cuore, da dentro, senza ipocresia, come un figlio che si rivolge al padre e che offre vera testimonianza di vita, senza dare scandalo, odiare o parlare male degli altri. Papa Francesco suggerisce, nella prima audienza generale del 2019, il cammino per dirsi cristiano, peccatore come tutti, ma in grado di scoprirsi figlio amato, anche se povero, umile di cuore o mite. Questa è la rivoluzione del Vangelo. Dove c'è il Vangelo c'è rivoluzione. Il Vangelo non lascia quieto, ci spinge. È rivoluzionario. Tutte le persone capaci di amore, gli operatori di pace che fino ad allora erano finiti ai margini della storia, sono invece i costruttori del Regno di Dio. E' bello pensare che il nostro Dio non ha bisogno di sacrifici per conquistare il suo favore. Non ha bisogno di niente. Il nostro Dio, nella preghiera, chiede solo che noi teniamo aperto un canale di comunicazione con Lui per scoprirci sempre Suoi figli amatissimi. E Lui ci ama tanto. Grazie a tutti.